le puntate di endless love proseguono a gonfie vele e nian e kemal sono ormai entrati nelle case degli italiani nelle prossime puntate cosa succederà il successo di endless love è irrefrenabile la soap turca è sbarcata su canale 5 da diversi mesi e il pubblico ha iniziato a seguire le varie dinamiche appassionandosi giorno dopo giorno la serie ha ricevuto il passaggio di testimone da terra amara quest'ultima letteralmente incollato i fan al piccolo schermo nian e kemal i protagonisti di endless love sono però riusciti a dimostrare in questi mesi grande potenzialità la loro storia d'amore e i molteplici intrecci rendono ogni appuntamento imperdibile le storie dei vari protagonisti proseguono tra colpi di scena e scottanti verità endless love kemal non perdonerà nian lei è preoccupatissima nelle puntate precedenti abbiamo assistito a molti momenti di forte tensione nian e kemal non riescono a trovare la chiave per poter essere felici insieme i due hanno anche provato a scappare ma emir l'antagonista della storia li ha subito trovati quest'ultimo ha costretto nian sua moglie a tornare a casa con lui qualora la donna non avesse accettato le cose per kemal si sarebbero messe molto male anche per gli altri protagonisti sono molteplici gli intoppi asu è innamorata pazza di kemal mentre zenep di emir entrambe con metodi assolutamente diversi hanno provato in tutti i modi a conquistare i loro amati ma le cose non sono andate per il verso giusto ma arriviamo al dunque cosa succederà nella prossima puntata al centro delle dinamiche i nostri amati protagonisti nian costretta da emir si è allontanata dal suo amato il cattivo della storia ha anche messo la moglie in azienda e quando kemal l'ha incontrata non poteva credere ai suoi occhi le cose tra i due sono diventate sempre più complicate nian sarà preoccupatissima tutto questo allontanerà per sempre il suo innamorato kemal le ha provate tutte per restare al suo fianco i suoi sentimenti non sono cambiati ma i continui ostacoli rendono le cose troppo difficili nian ha sposato emir per salvare la sua famiglia dalla rovina il suo cuore è tutto per kemal nonostante questo però emir non vuole accettare in nessun modo la relazione tra i due tutto ciò che desidera è avere la moglie al suo fianco riusciranno kemal e nian a superare i problemi per vivere il loro amore alla luce del sole tanti appuntamenti regaleranno ai fan molteplici colpi di scena endless love tornerà su canale 5 anche dopo l'estate la seconda stagione è in arrivo con novità e interessanti sorprese per non perdervi nemmeno un dettaglio seguite le nuove puntate endless love alle 14 10 dal lunedì al venerdì